Salve a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo tutorial www.tootslab.net Oggi andremo a vedere come creare un effetto di desaturazione a una fotografia Diciamo che è un metodo molto semplice per appunto rimuovere o comunque diminuire la vivacità dei colori di una fotografia Quindi per renderla un attimo più professionale Ora come prima cosa dovremo andare ad aprire la nostra immagine Quindi andiamo su file, apri e andiamo a cercare la nostra immagine, vediamo Ecco qua la mia famiglia contenta, perfetto Vedete che questa immagine ha una tonalità di colori veramente molto forte Quello che dobbiamo andare a fare appunto è desaturarla Quindi come prima cosa io consiglio sempre di sbloccare quindi il lucchetto Andiamo a duplicare il primo livello, quindi ci clicchiamo e lo trasciniamo su questa piccola iconcina qua E ci duplica il livello, così da salvarci diciamo l'immagine originale Una volta che abbiamo questo livello qua selezionato dobbiamo andare su immagine E' arrivato un messaggio fantastico Andiamo su tonalità e saturazione, ci clicchiamo sopra E quindi andiamo a diminuire la barra della saturazione L'abbassiamo, vedete che la nostra immagine inizia a desaturare Quindi andiamo su un, facciamo un meno 65 Ecco qua Premiamo ok Perfetto, come vedete l'immagine è stata già desaturata Quindi Photoshop fa tutto, voi solamente dovete muovere una barra E vediamo già l'effetto prima e dopo Quindi questo è quello di prima, questo è il dopo Il tutorial è completato, mi raccomando di iscrivervi al canale Commentare, mettere mi piace o condividere comunque su Facebook Mi raccomando seguitemi e ci vediamo alla prossima